quando c'è un pesciuzzo rifiutivo come si giocava? non mi ricordo i tasti anch'io ci sono dei tasti in sto gioco si sono belli, sono quadratico inizio io ma che schifo sei corvo salve 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 però sei un po' strocio dai io dai io erido e io muoio con serenità ma poi l'ho mai vedere hai gli uccheli 3d colori mi nascondo mi nascondo non mi vedete te li rompo adesso guarda Carlo Conti ero lì a presentare ma dai dai che c'ho il fedora arrivederla eh no ti è piaciuta? questo saltino eh è stato divertente è perchè è stato bello tirarlo mi diverto tirare le mazze eh lo so che ti piace la mazza ma c'è una mina lì ma dai ma che culo tu hai fatto eh prenderate l'altra perchè c'è un mafioso tra l'altro in mano un pene di un del genio di alabi ah ah eh 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 ma dai tu sei un aviatone si eh ma dai fai a modo dai ah 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 finisce il tempo dai fai bene ma guarda che non ha fatto niente non l'ha 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 fatto niente di fronte proprio chi tasti di merda di warms spero che non c'è scritto jump sulla tastiera l'ha fatto niente un po' caput torna guarda io che bello con il misterio che la finita è stata una cosa il il non ce n'era bisogno per noi infatti no vada qua 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 ma non lo voglio vada qua vada qua vada qua vada qua ma io pensavo di essere l'altro che fa le forme che non mette la la maiuscola però mi fa fastidio ahhh 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 era piccolino questa fila non c'era bisogno anche qui comunque fa sicuro ahhh ahhh la fa vedere prima però è gentile ahhh nooo povera salta 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 maronne sante no la mia no la mia ma dai eh tovato su e mi tovato male anche al mio gino paolo maronne sante dè ah ma gino è qui eh no allora devo dagli una spintarella una spintarella ma giusto per il culo no dai dagli una spintarella col dito col dito col dito? prima gli faccio sentire il dito però non lo so se deve essere accaduto no no nel dito prima gli faccio guarda indico non è il dito indico indico di lì dai indica di lì dai indica di lì facciamo vedere c'è il dito meglio tra no non so se ce la faccio ce l'ho fatta non è andato eh comunque non ti ho spinto con quel dito eh te l'ho dito eh no allora fa vedere ma no fantozzi dai mi hanno giaciso la moglie eh ma ti sta bene scuola mi hai spedito di là tu guarda aspetta facciamo così però Fabrizio Antizio ma vi state fissando negli occhi da vicinissimo mamma gliel'hai fatto sentire proprio questo qui eh mi spara con la fune ma basta con sei funi che non sei buono ah quello comunque era un pene si infatti quello era proprio un pene cosa quello lì dove ti sei attaccato è proprio un pene ah i tasti mi confondi qua guarda come si fa qui ma adesso mi dai fastidio però ah va bene moro va bene te ne ricorderò guarda guarda ma no zuppa di culo no ma solo io dai aspetta aspetta guarda come scivola guarda che scivola cacchio cacchio guarda che si appende zuppa di culo ah scampato pericolo ma guarda che pastasso aaaaaaah così l'ho aiutato a scendere giugino il caratino ah ma se si può schiamare scrotto quello l'ho letto adesso ah anch'io però provo il tiro dove la tira la canna dove la tira quell'angurietta oh corto ah ah un tava rompergli la testa ho fatto un blocco eh non sono mica Michael e Michael Reynor però a me questo qua mi ha rotto il ca io l'ho detto ma me lo rispedisci di là ma che fa eh non lo so io 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 che puttraia oh tocca a questo fino al tutto ma cazzo rispedisciti da solo di là aspetta proprio ma adesso mi mandi lì azzaro aspetta aspetta ehi ha fatto i grandi soldi adesso con i soldi posso finalmente comprarmi una bandana ma parola tra una palla in mano cosa una bandana allora stavo bevendo l'estate comprate state ma lascio il link in descrizione non so cos'è questo nel dubbio lo uso ma è un cappello da pirata ma fa schifo guarda cosa fai guardi male la gente in alto le mani ma no ma no ma no basta ho capito cosa ho fatto hai già finito eh si non ho capito non ho capito complimenti ma gli hai rubato un oggetto ah gli ho fottuto un oggetto e che cosa ho fatto e quindi era quella ho capito che abilità era quella di rubare subire era l'abilità del ne gro non possiamo censurarlo perchè non l'abbiamo detto cosa io ho detto gro so gro ne scusa gro ne dai fabrizio frici ma lo ritiri a me ma allora lo fai apposta te lo ritiro che ti serve la prossima volta te lo porti tu dai che non sei arrivato dai che mi esplode anche addosso che falle è un ladder dai arthur a smagdown ha rubato la cintura perchè era ebbè è vero perchè era ilione perchè era ilione no no corvo ti sbagli eh si non posso dirlo perchè non si sbriga corvo non deciderle da facendarsi no non so che cazzo devo fare ma prostata si chiama vabbè ah porca vacca ah mi fanno male gli occhi mi sta un po' sul ca Marco Columbo ma dai faceva lì brutto natroccolo Marco Columbo no quello era è vero no è vero piacere salvo sott'inglese e cos'è e continua a indicare la gente con un dito medio tra l'altro tira il dito aspetta che gli devo spaccare la faccia che prima mi hanno ucciso tutti mi ha ucciso dai dai che finisce nella maina ah porca che figura di merda ma sta sul bel tiro ma quello che scoprì la colombia guarda che è bello il gabbiano là a destra tra l'altro no fa schifo no c'è proprio la faccia è proprio la faccia del gatto devi passare dal buco no dove l'ha no dove sta deficiente avete avuto pagliuca eh 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 sì poverino peruzzi non viene mai nominato ormai è diventato mainstream ho sbagliato hai tutti i tuoi alleatito e quindi hai fatto una bella cosa ma pareggio l'italia quel pezzo quel pezzo quel pezzo io lo sapevo che lo fa capito io lo sapevo ha diventato un pene ho sbagliato questo giro cazzo ho l'occhio nero tutto pesto e ride comunque tutto dai dai come hai piegato male dai dietro ma è che vediamo un po' come ho fatto pace, me ne ha ucciso uno, dai basta no? ma è col Josas? nooo no ma come no? Corvo c'ha 73 vermi ancora ma è vero, me ne ha già ucciso ma non lo sapete usare ma io non... t'ho spinto col ditto, ti ho indicato troppo f... guarda che l'italia comunque ma dai, ma con tutti i posti ma poi c'è bisogno di quello mi ha cercato l'altezza ma per forza mi sembra male che l'ha cercato la granata sacra voli giù, è un piacere voglio vedere come si prende la vera Mendes facciamo così Michael Fender ma... complimenti e questa insieme a quella di prima è stancho si vede ti dico la corda sulla testa ma già che si può fare col Joynust ma dai, ma sono già l'ulti ah ok tieni, ci stai fell tanto non fa un cacchio sono presi i trover sono tutti insieme 4.564 non mi non lo trovavo lufo non c'era ancora l'ho rubato beh, anche tu fai parte di quella famiglia lì aspetta cosa fai, non rimetti lì io lo sbatte nella faccia eh... che bella idea complimenti ma una volta facevano male questi oggetti ma una volta ci chiamavano pro player mi dicevano eh ma cazzo, sono in due lì Michael Dick ma in testa proprio ULELA MARIOTIDE e ti viene esplodata non ti fischi guarda, quella barca non cade mai si chiama Achille quella barca, guarda c'è scritto eh, la si chiama Achille Achille è figlio d'Apollo invece c'è una palla di stronzo vifo invece c'è una palla di palle di apollo ma gli azzerat dai ma sono io ma sono io come che ti cambia già la freccia tab talebano ma è l'aereo, è troppo piccolo per contenere eeeh aia ah, ti ho bruciato il cu eh si, un colpettino zitto deficiente vabbè curare da solo la ricerca contro non ti stai curando da solo stai solo morendo Mark la ricerca contro la siiii ma dove va? eh si ho paura star lì mi uccidi eh perchè ho preso, cosa ho preso? non ho letto c'era la scritta davanti ma dai adesso vengo lì e te la rubo porca vacca eh lo sapevo io porca vacca sono questi qua ma tu ne hai 400 di vermi ora che ti uccido dai oh eh si, si cura anche guarda ahia ahia ho dato un colpo di cazzo gragas eh si gragas ripara gragas sostituisci con il bidello che poi te lo pulisce eh 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 è una bella idea metti via quel lato aspetta però che tu ho troppo poca vita per una banana cosa vuol dire ma vuoi colpi io non è in alto come ho fatto l'altra volta che sono morto io e basta però ma come uno ma ti rifaccio ma ahhh 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 mi fi cattolo cosa è successo ma dai mi è morto ma ahhh ma ahhh c'è quella roba verde che è un'arma bellissima no no non mi piacciono quando disco 18 milioni di vita è impossibile ero tanto sollevato ammada l'acqua squizzata fatto il pelo nel fatto non ho mai dato molto sono la conchietta e la madonna il pozzetto ho fatto blubbubbubb adesso è ora che ma mi sorto il cazzo cosa faccio qua e ma spreco roba jetpacket e vettagione 1 appunto e conviene non tieni in saldo condiviene che lo tieni in saldo guarda no mark, non registriamo più con mark è impossibile porca troia ma non sto zitto fai schifo cretino ah sei semo mi sposto ho preso una roba che non so che cos'è la uso cos'è il buggy b? no è la palpa c'è una cosa vulgarissima per un attimo non posso dire ho capito nooo quanto quei miei lanci meravigliosi non c'erano mai nooo michael costa michael costa michael costa è italiano adesso voglio vedere quante vite orca puttata ma me li hai uccisi ma tu sei un bastardo ma si dicono ma anch'io allora lo uccido ma ciò dov'è corvo? ho sbloccato la mazza soldati corvo ma dove sei tu? eh mi sono mimetizzato ah sei lì ma guardalo io lo vedo dov'è non lo trovo dov'è? eccolo prostata chi è? quello vecchio ma non fa una merda quello basta eh lo so però c'ho quello cosa devo fare ma usa qualcos'altro non c'è quello beh sì adesso ci avete tutti con me solo perchè sono piccolo e rosa come il mio pene? non c'ho piccolo e rosa no no cazzo sbagliato ma vabbè ecco qui lo devo tagliare mi dispiace eh no no che cazzo ma siccome il video lo registro e lo monto io me la gestisco come cazzo mi pare ti è ahahahahahahahahahahahahahahahahahahah beh sì adesso ci avete tutti con me solo perchè sono piccole rosa come i miei libri di testo come i miei libri di testo deficiente ma no no dai no no dai no addio maria ahahahahah ahahahahah mi fischia io rinuncio a questo video ahahahah ahahahahah sei scemo cosa serve il video? non si vuole beh cosa succede? però te l'hai amato tutto ho fatto una ripresa come quella dei registi del wrestling quindi esatto non si è visto un ca soprattutto perchè non riesco più a giocare ahahahahah porca puttana eccolo non so cosa faccio ma sicuro lanciala lanciala ma ma è una vecchia non è una talpa ma no che bella idea porca ma dai ma che cazzo serviva e mi sono dovevi attivarla ma sei tutto molle gelatinoso però dai usa la hit ma nooo adesso li riempio di acqua ma no dai ahahah 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 no sono entrato ma io ti abbraccio cosa sta facendo? ma tra l'altro moro dov'era scusi michael johnny's un indiano un indiano INDIANOO l'hai capita marco no perchè non sei l'ingese invece si stefano no no non c'entra india nel culo vuol dire ma muoviti eh aspetta eh ma in inglese hanno non si dice ahahah 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 ma io non posso più giocare a Worms basta la serie di Worms finisce con questo video mi dispiace ahahah ma che oxide ma che sonno eh niente 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 mi hai fatto tornare a ridere mi cido sicuro io salta no devi salta da attivarlo però l'arbo di merda eh no però prodo io ancora rischi 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 non lo trovo va bene ma niente ti suicido ti suicido ti suicido sono più buona parola ho vinto io ti è che fai per forza eh senza denti ho vinto fai il fa denti che falle marica Gino guarda che scudetto voce ma